E' sempre il tentativo di scaricare le proprie responsabilità su altri. Allora, questo è che succedono. E quando non riescono a scaricare le responsabilità tra di loro, scaricano la colpa all'Europa. E' l'Europa che ce lo chiede. Anche adesso, durante l'emergenza sanitaria, si diceva, ma è l'Europa che ci impone il Green Pass e di conseguenza noi dobbiamo sottostare all'imposizione dell'Europa. Bugia grandiosa perché il Green Pass che è stato approvato in Europa non aveva lo scopo di limitare la circolazione sia di persone che delle merci. Anzi, l'esatto contrario. E' stato concepito per favorire la circolazione, soprattutto tra i paesi membri dell'Unione Europea, delle persone e delle merci. In Italia, il governo dei peggiori ha detto è l'Europa che ce lo impone. Quindi noi dobbiamo... E poi hanno inventato il Green Pass all'italiana. Unico caso al mondo in cui si chiede a una persona che deve andare a lavorare per sfamare la famiglia di esibire un passaporto verde per andare a lavorare. Unico caso al mondo. Bene, adesso, siccome hanno detto che dobbiamo fare questo perché l'Europa vuole così, come spiegano loro signori che in tutti i paesi membri dell'Unione Europea hanno tolto il Green Pass e non è mai stato applicato in modo così coercitivo e punitivo come in Italia, mai, in nessun paese, come mai ovunque hanno tolto il Green Pass e in Italia il governo dei peggiori vuole continuare a mantenerlo nonostante abbiano detto che l'emergenza sanitaria finirà con il 31 di marzo. Come spiegano sta cosa qua? Allora, per dire, lo chiedono l'Europa. Allora, l'Europa ce lo impone, l'Europa ce lo chiede. È stato anche detto, sempre, non so dove abbia parcheggiato la navicea spaziale, quello lì di Cittadella, per dire, no, scendendo da Marte, le cose sono andate meglio perché è diminuito il debito pubblico, non abbiamo mai avuto un debito pubblico così alto come adesso in Italia, mai. Le cose non sono mai andate così male come adesso in Italia, mai. Non abbiamo mai sofferto due anni di emergenza sanitaria con l'imposizione di divieti, di vincoli e con la privazione delle libertà individuali come è successo in Italia negli ultimi due anni, mai. Non è mai successo che chiudano le imprese più importanti in Italia perché i costi superano i ricavi. Qualche raro caso è successo, ma qui la situazione è drammatica in modo sistematico e questi ci stanno raccontando che stiamo vivendo un boom economico. Io capisco, no, per dire, ognuno si fuma quello che vuole, per dire, no, allucinogeni compresi, però il problema è un altro. Questo governo, altro che allucinogeni, questo governo vorrebbe far fumare gli allucinogeni alle persone per impedire loro di poter guardare la realtà, ma la realtà non basta limitarsi a non vederla, la si tocca con mano. La drammaticità della crisi economica, occupazionale e sociale è sotto gli occhi di tutti noi e solo questo governo di Marziani non vuole ammettere questa situazione e non vuole ammettere le proprie responsabilità. Dicono che è colpa dell'Europa, è sempre colpa di qualcun altro e nessuno si assume la responsabilità della situazione in cui stiamo drammaticamente vivendo.